Lucia Bramieri, chi è la concorrente del Grande Fratello L'identikit di una delle protagoniste della prima puntata del reality show condotto da Barbara Durso Nel cast del Cancelletto Grande Fratello 2018 figura anche Cancelletto Lucia Bramieri, che ha già attirato su di sé i riflettori della cronaca del gossip. In più di un'occasione, Lucia è stata ospite delle trasmissioni di Cancelletto Barbara Durso, pomeriggio 5 e domenica live. Ieri, in occasione della prima puntata del Grande Fratello Nip, l'eccentrica signora milanese, dalla spiccata personalità, ha rubato la scena alla maggior parte degli altri concorrenti del GF. . L'opinione diffusa tra gli utenti sui social è che la Bramieri possa essere una delle candidate alla vittoria finale dell'edizione di quest'anno, iniziata con i fuochi d'artificio e con un ottimo share, superiore al 22 per cento, che ha permesso alla Durso di vincere la gara degli ascolti tv del martedì sera. . Chi è Lucia Bramieri? Lucia Bramieri nasce a Milano il 7 aprile del 1961. Dopo essersi diplomata e in ragioneria, diventa una delle primissime donne vigile urbano del capoluogo meneghino, imponendosi già allora per il suo carattere molto forte. . All'età di 33 anni sposa Cesare Bramieri, figlio dell'indimenticato Gino. Il matrimonio dei due è segnato dal lutto, a causa della malattia che colpisce Cesare d'Ali a pochi anni, fino a condurlo alla morte nel 2008. Da allora, ha sempre portato in alto il nome dei Bramieri, nonché un oggetto che stava molto a cuore alla famiglia di Gino e Cesare. Il riferimento è al telegatto vinto da Gino Bramieri nell'anno 1996, due anni dopo il matrimonio tra suo figlio Cesare e Lucia. La donna custodisce gelosamente la statuetta assegnata al suo acero 22 anni fa, portandola spesso con sé durante le sue ospitate televisive. Nel corso della sua presentazione come concorrente del Grande Fratello, Lucia ha fatto nuovamente riferimento all'ambita statuetta della televisione italiana, scatenando l'ilarità del pubblico presente in studio. La presunta storia con Simone Coccia. Attualmente, Lucia Bramieri si professa single. La situazione sentimentale della 57enne milanese potrebbe però subire un'evoluzione, positiva o meno, all'interno della casa del GF. Infatti, Lucia incontrerà Simone Coccia, fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. In merito alle voci di un presunto flirt in passato tra la Bramieri e il Coccia, è intervenuta questa mattina Vladimir Luxuria, ospite a Mattino 5. L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha dichiarato che, nel corso della diretta di ieri, la vedova di Cesare Bramieri non ha detto la verità quando ha ribadito come tra i due ci fosse stato un semplice scambio di messaggi. Secondo La Luxuria, infatti, i due si sarebbero spinti oltre.